Ed è la stagione del volley, parla Matteo Piano, centrale di Milano e della nazionale. L'intervista è di Maurizio Colantoni. È il cuore di Milano, della Milano che vuole andare avanti nei play-off. Matteo Piano, il capitano sogna nell'anno più difficile. Lui, centrale entusiasmante, nonostante tutto, pensa sempre positivo. A me piacerebbe molto che il nostro percorso di play-off sia molto lungo, perché quindi incontreremo più squadre e la challenge sicuramente è un bel sogno, un bel traguardo come Matteo, come squadra, come società. Perché credo che è qualcosa da cui lavoriamo e abbiamo nel nostro cuore e testa da tanto tempo. La cosa che ti è mancata di più quest'anno? Beh, gioire con le persone che venivano qua a festeggiare, a esultare con noi. Che stato d'animo c'è in questo momento, visto che adesso siete nella seconda fase della stagione? C'è uno stato d'animo che è consapevole del fatto che giocare a questi play-off, ancora a porte chiuse, sicuramente è diverso. E comunque sono dei play-off che mancano da tanto, perché l'anno scorso non ci sono stati. Quindi siamo consapevoli di tutti della bella responsabilità che abbiamo nel giocare, oltre che come opportunità, credo. Quindi sono dei play-off nuovi, anche perché non c'è mai stata questa formula. Io credo che, restando nel presente, sognando lontano, possano essere dei play-off che diano gusto da giocare e da vedere.